Come sarà caratterizzata questa terza edizione? Al terzo anno di vita, Sonni d'Estate, mostrerà numerose novità. Oltre a Bergamo, Brescia, Sondora, vicino a Valposchiavo, si andrà per la prima volta nella provincia tormana di Trento, nella località di Cavalese, per un suggestivo concerto d'opera lirica. In quest'anno ci sarà la grande novità della collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti, con la figura di Francesco Micheli, attuale direttore artistico della stagione d'opera, e con la Fondazione Patricia Chiti, che, è voluto dirlo, in questi giorni è mancata a tutti noi. Otto progetti totalmente differenti, inediti per la provincia di Bergamo, che vedranno numerosi artisti alla ribalta su palcoscenici locali e internazionali. Possiamo già entrare nel merito di qualche data, specialmente per le più imminenti? Sì, l'inaugurazione sarà sabato 16, come di consuetudine con la Dronizzati Night, la serata di tutti noi bergamaschi, in cui, potremmo dire, adoriamo il nostro compositore bergamasco, Gaetano Donizetti. Il primo concerto effettivo in Valle Sariana sarà il 23 giugno, alle ore 20.45, presso la Chiesa Parrocchiale di Premolo, in cui vedrà ripetersi il concerto ideato in coproduzione con la Fondazione Teatro Donizetti, Il Volo del Gufo, che è anche il tema principale della stagione lirica 2018, in cui vedrà esibirsi il soprano britannico Holly Cholaz, il narratore critico musicale dell'Eco di Bergamo Bernardino Zappa e il quintetto di Fiat Eorobie. Un grande ringraziamento va a tutti gli enti che ci hanno aiutato in quest'anno. In quest'anno in cui la cultura subisce dei grandi tagli, noi abbiamo avuto enti che ci stanno aiutando in modo numeroso, tra cui il Ministero dei Beni e della Cultura, le varie province, Bergamo, Brescia, Sondrio, Trento quest'anno, e il Cantone dei Grigioni, oltre ai singoli comuni che fanno parte integrante di ogni progetto, senza mai dimenticare le associazioni turistiche dei nostri grandi comuni.